Colleghi, abbandonate i banchi del governo, abbandonate i banchi del governo. Bonanno e Fedriga, vi richiamo formalmente, colleghi, vi richiamo formalmente, per la seconda volta. Collega Fedriga, abbandoni i banchi del governo. Collega Fedriga, collega Fedriga, lei è espulso, allontanate dall'aula il deputato Fedriga, forza. Massimiliano Fedriga, perché ha occupato i banchi del governo? Abbiamo voluto sottolineare con un'azione anche forte la mancanza in tutto il dibattito per l'eliminazione del reato di migrazione clandestina del ministro Alfano. Il ministro Alfano faceva parte del governo, il governo di centrodestra di cui la Lega era un azionista importante, nel quale è stato introdotto il reato. Senza reato di migrazione non si possono espellere i clandestini. Lo prevede la delegativa europea Rimpatri del 2008. Tutti quelli che dicono che il reato è inutile raccontano una balla e vogliono fare invadere il territorio nazionale da immigrati clandestini. Abbiamo cercato in tutti i modi, nella giornata di ieri, di fare presente la questione, di chiedere la presenza di Alfano che rispondesse e prendesse le sue responsabilità. Drammaticamente questo non è accaduto e oggi quindi abbiamo voluto manifestare la nostra contrarietà e dire che la Lega è l'unico movimento che si batte per il mantenimento del reato di migrazione. I 5 Stelle hanno presentato questo emendamento al Senato e PD, Scelta Civica, Nuovo Centrodestra, SEL lo stanno mantenendo durante l'esame alla Camera. Continueremo la nostra battaglia sia in aula parlamentare sia sulle piazze. La critica al Ministro Alfano va al di là del suo ruolo istituzionale ma anche a quello politico perché il nuovo centrodestra è sempre stata favorevole al reato di clandestinità. Sì, ha cambiato totalmente posizione. Alfano, il nuovo centrodestra, si sono appiattiti sui voleri della sinistra e dell'estrema sinistra, aprendo di fatto le porte all'arrivo in massa di migrazione clandestina. Già con le politiche portate avanti dal Fanno come Ministro degli Interni abbiamo visto gli effetti. Nei primi mesi dell'anno ci sono 10 volte gli arrivi rispetto allo scorso. Quindi è chiaro che noi contrasteremo questa politica. La Lega si opporrà con tutte le forze sia in Parlamento sia fuori dal Parlamento per cercare di mettere un argine a questa politica dissennata che non vuole risorvi di drammi che stanno vivendo i nostri cittadini. Ricordo il 13% di disoccupazione, il dato più alto dal 77%, ma invece vuole continuare a fare assistenzialismo a chi arriva illegalmente nel territorio nazionale.